Grazie a nuove innovazioni e numerose migliorie vengono definite tendenze e semplificate le procedure di lavoro. Così come si è passati dalla vecchia macchina da scrivere, al computer portatile, dal telefono da tavolo con disco di selezione, al cellulare. Anche nella tecnica medica si è passati dal vecchio stetoscopio passivo al nuovo cardioscopio attivo Sono Plus della Pulsonic Medical Technology. Oggi, il nuovo Sono Plus è uno standard assoluto per ogni medico. Il Sono Plus racchiude due apparecchi in uno. L'integrazione fra elettrocardiografo e stetoscopio. Offre il vantaggio che disturbi del ritmo cardiaco possono essere riconosciuti e differenziati con sicurezza. Il Sono Plus funziona come un normale stetoscopio ed è solo leggermente più pesante. Grazie alla tecnologia anti-interferenza di nuovo sviluppo, il Sono Plus incorpora proprietà eccezionali per l'auscultazione di cuore e polmoni. In virtù del suo formato tascabile compatto l'apparecchio offre anche la massima mobilità. 3 elettrodi a pettine integrati e dorati permettono di eseguire elettrocardiogrammi in pochi secondi. Derivazione 1, 2 e 3. Lo stimolatore cardiaco viene riconosciuto automaticamente. L'apparecchio viene impiegato con successo in cardiologia, nella medicina di emergenza, in medicina generica e in numerosi altri settori della cardiodiagnostica. Con il Sono Plus lavoro in modo molto più efficiente. Distanza dell'onda P, variazione del tratto ST, disturbi del ritmo, posso riconoscere tutto immediatamente. Il Sono Plus è anche un capolavoro della tecnica. Consente di memorizzare tracciati ECG fino a 16 minuti e fino a 99 pazienti. Con un semplice clic del mouse i dati possono poi essere trasferiti su computer. Software PC e cavo di collegamento sono inclusi in dotazione. Il relativo programma per PC permette di analizzare e stampare i dati in modo rapido e preciso e in caso di necessità di inviarli per email. Il Sono Plus è facilissimo da utilizzare, basta premere il pulsante ed è già pronto per l'uso. La sua affidabilità e la sua qualità mi hanno convinto. Raccomando vivamente il Sono Plus a tutti i colleghi. Con il Sono Plus lavorate in modo più comodo ed efficiente. Approfittate già da oggi della nuova performance.